Ho ho ho, benvenuta cara Ferenichi, benvenuta nell'arena della morte. Sei pronta quest'oggi ad affrontare duemila sfide davvero insidiose? No! Ma dovresti dire di sì! E infatti lo so, non era solo per fare scena, Steph. Perché ovvio che io sono sempre pronta, ma non posso dare sempre le stesse risposte. E tu sai perché sei in quest'arena, Fere? No, quello non lo so. Perché hai fatto arrabbiare gli Enderman e ti spiegherò tra poco perché li hai fatti arrabbiare. E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph, è che stai giocare a Minecraft. E oggi siamo qui su Minecraft in un'arena gigante. E Steph mi spiegherà che accidenti ci facciamo qui. Allora, Fere, ti spiego un pochettino. Praticamente la famiglia degli Enderman mi ha contattato. No, è impossibile. Con te non parla nessuno, Steph. Nessuno vuole parlare con te. Praticamente è successo un casino dopo il video che abbiamo fatto. Hai svelato un loro segreto. Un segreto che loro volevano tenere nascosto. Ovvero il loro sport preferito, il nascondino. E di conseguenza ti vogliono affrontare nell'arena. Ok. Ma io non voglio. È una famiglia pericolosa. Mi ritiro, me ne posso andare? No, Fere, devi affrontarli. Dicevo che è una famiglia pericolosa fatta di Enderman davvero particolari che non ne ho mai visto. Perché questi appunto sono molto più bravi a giocare a nascondini. Sono gli antenati, i ressuscitati. Esattamente. E sono arrabbiati con te. Però prima di affrontarli avrei la possibilità di chiacchierarci, di vederli un po', te li presento. No, ormai sono arrabbiata, li uccido e basta. No, Fere, non ti conviene. Sì, ormai mi hanno fatto arrabbiare. Nessuno si deve permettere di mettere in discussione quello che io dico e faccio, Steph. Quindi ormai è guerra. Volevo dirti che comunque se riuscirei ad affrontare tutte le prove che ti darò da fare per farti perdonare dalla famiglia degli Enderman, otterrai anche una fantastica armatura. Ovvero quella che sto indossando io in questo momento. Guarda che figo che sono. Sì, bella. Da dove l'hai presa, Steph? È bella, eh. Te l'hanno data? Sì, sì, la fanno loro. Perché sei il loro alleato, vero? Esattamente. Mi vuoi tradire, Steph. Prova a picchiarmi, prova a picchiarmi. Oh, sono in game mode. Il primo Enderman che ti voglio presentare oggi è l'Enderman Arcele. Ok. Guarda che bellino, vieni qua. Ha pure la cosettina delle frecce dietro. Sì, sì, ma pure l'arco in mano. È figo, eh. Ha delle corna, molto bello, molto, sì. Allora, a me è venuto il dubbio su questo qua. Quindi ti volevo chiedere, puoi provare a tirargli una freccia? Perché voglio vedere se tiene la caratteristica... Ha rimbalzato. Rimbalzato. Aspetta. Vai. Ha rimbalzato, Steph! Continuano a rimbalzargli in testa. Cioè, praticamente, invece che schivarle, lui rimbalza direttamente. Adesso me l'ha fatta rimbalzare, in più è scappato via, perché sicuramente si è stancato del fatto che gli stavano arrivando troppo in fretta. Si sta iniziando ad arrabbiare, si sta iniziando ad arrabbiare. In ogni caso, infatti, te lo volevo presentare, perché lui è uno degli arcedi più forti al mondo. Non tanto perché è miratissimo, ma proprio perché, essendo immune alle frecce degli altri arcedi, sei come uno contro zero vince facile, hai capito? Da solo, esatto, sì. E quindi lui è molto particolare. Però invece, se tu ti riferi la spada, prova a picchiarlo, scoprirai che... È abbastanza scarso. Muori! Eh, però inizia a tirare frecce, guarda che risponde bene, Steph. Eh, però è morto, dai. Si sconfiggia abbastanza facilmente. Esatto. Ti informo che hai appena fatto arrabbiare ancora di più la famiglia degli Enderman, perché... Ma sei tu che mi hai messo questa sfida, ormai hai iniziato, Steph. No, 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 io ti ho andato a letto. Non mi interessa più, Steph, dai, il prossimo. Dai. Ecco, Fede, lo volevi, vero? Hai fatto arrabbiare l'anziano della famiglia degli Enderman, ed è venuto qua a farti un discorsetto. Guarda, è arrabbiato e si vede dalla sua faccia. Fede... Ma... Lui le prende in faccia! Speravo che le schivassero, che perlomeno rimbalzassero, però evidentemente è talmente vecchio che non le vede, quindi non riesce a schivare. Esatto. Poverino, ma poi col bastone come cavolo fa a schivarle? Non credo neanche che si possa detrasportare. Guarda, mi sta guardando tutto impaurito. Fede, guarda, non provare a spararlo, eh. Lui è il più saggio, ovviamente, degli Enderman e voleva farti un po' un discorsetto. Si è un po' arrabbiato con te perché dice che comunque il nascondino è una loro tradizione da tantissimo tempo. Chi è costui? Questo corre come l'aruto, lo vedi? Come corre? Eh sì, lo vedo, come corre? Che fai? Allora, costui non so che cosa ha di particolare. A me sembra giusto un Enderman bambino, perché comunque sembra un po' un bambino, no? Sì. Ok. Questi prendono tutti le frecce. Hai sentito il versetto? Sì, sì, lo so. Sentilo, sentilo. È carino. Direi che è l'ora di farti conoscere uno un po' più aggressivo. Sì, finalmente. Non so se riuscire a sconfiggerlo. Sei pronta? Sì. Questo, Fere, te lo dico proprio, è lo Spawn Ender Golem. Quindi è un golem di Ender. Sei pronta? Mamma mia, vai. Ok. Ti attacca, eh? Mi stai seguendo. Ti attacca, Fere. Buona fortuna. Ma guarda, l'opera la bocca ed è cattivissimo e bruttissimo. Stef, aiutami. No, non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Te l'ho detto che gli hai fatti arrabbiare, Fere. Non lo posso fare. Ti uccido. Io ti avevo avvisato. Due cuori e mezzo di vita. Aspetta che mangio, ci rilassiamo, ci riprendiamo. L'hai sconfitto. Sì, mi ha dato questo. Ce l'hai fatta. Cosa ti ha dato? Un corno. Il suo corno. Prova a suonarlo. Tasso destro. Funziona? O no? C'è il boss finale che rispetto a questo, cioè non ho idea. No, vabbè. Ma non aiuterai pure tu. Anni luce è più difficile. Però, comunque, arriverà alla fine. Quindi, per adesso sei abbastanza tranquilla. Allora, a questo punto direi di passare a questo, che non ho idea di chi sia, quindi lo conoscerò insieme a te. Ma, ah, ecco, è qua. È un po' timido, Fere. Che fa? Ma scappa. Si è trasportato subito. Non gli piace. A lui non piace essere guardato. Ma come faccio? Lasciamolo in pace. Lui è abbastanza aggressivo e forte. Guardalo. Praticamente. Ma che è? È una sorta di mago enderman. Ma perché flutua? Lui flutua, sta a volare e ha una bacchetta magica fortissima. Prova ad attaccarlo. Ha schivato malissimo. Aspetta, ma è andato dall'altra parte dell'arena. Ma torna qui. Ma tieni qua. Picca la spada, va. Così vedi cosa fa. Un solo colpo. Un solo colpo che sennò poi me lo stendi. Guarda. Uh, le Fireball ti tira. Ma che pazzo. Guarda, 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 guarda. No, ma adesso io parto svantaggiata. Però, beh, non era troppo resistente. Esatto. Ma fa molto male. Come l'arciere. Non è troppo resistente, però fa malissimo perché ti mette subito fuoco ed è davvero, davvero pericoloso. Aspetta che spengo qua che poi prende fuoco tutta l'arena e non va bene. Vuoi conoscere il ribelle? Guarda. Vai! Spicchiamo tutti. Steph, mi ha velenato. Lo so. Oh, mamma mia. Ma che mi ha fatto? Ha una spada in legno e piccolotto. Ha poca vita, ma ti ha velena. Quindi anche lui è pericoloso. Sì, 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 sì. Perché ad esempio, se per sbaglio qualcuno, un po' birichino, evocasse quattro ribelli all'improvviso, sarebbe un problema. Ma sei d'accordo? Ce la caviamo così. Qui fanno dei versi fantastici. Ce la caviamo così. Per i primi peli devi affrontare. Sono lenti. Ah. È una buona tecnica. Oh, ragazzi. Ferri e Riki in un'arena dal meglio di sé. Guardatela, guardatela come si muove. Li sta fregando. Ma vedono poco comunque. Hanno perso interesse. Non ho notato. Forse si sono stancati, non lo so. Forse la ribellione è finita e quindi sono tornati pacifici. Eh, boh, sono un po' strani. Dai, bisogna capirli. Però te la stai giocando bene, eh. Te la stai giocando davvero bene. Mi sono rimasti... Se non... Tef, che hai tirato fuori. Ti ho messo un golem. Non vale, però. Non mi puoi far perdere quando io sto chiaramente vincendo e quando mi sta andando tutto bene, Tef. Mi hai scivolato il dito nel mouse. Non è vero, l'hai fatto apposta. No, 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 ti giurami, è proprio scivolato. Io non volevo. Guardate come continua a correre. Ma si stanno picchiando... Ma... Hanno fatto tutto da soli. Il golem ha stendo un ribelle. Grazie, grazie. Sei molto gentile. Beh, perché d'altronde sono ribelli e quindi danno fastidio anche alla famiglia degli Ender, ha senso. Esatto, sì. Ok, hai scoperto un punto debole da lontano. Guarda, non viene, non viene. Mamma mia, gli occhi rossi. Questo qua è cattivissimo. Ti fa troppo a paura. Ma lo sognerò stanotte, te lo dico. Eccolo verso ferro, attenzione. Facilmente lui. Oh! E adesso uccide anche questo e ripulisco l'arena per dimostrarti che l'unico valoroso guerriero sono qui, Stef. Sono io qui, Stef. L'ho detto male, ma il senso era quello. Dai, su. Guardami, Stef. Adesso sono un ribelle anche io. Mi hanno donato il loro elmetto. Ne ho addirittura due, se poi ne volessi uno. Ok, grazie. E quindi sono diventata come loro. Allora. Un ribelle anche io. Dato che stai andando davvero bene e te la stai giocando bene in questa arena, ho deciso di darti una mano e di consegnarti un'arma molto potente. Ok, vai. Tieni e provala. Questo è finalmente... Ah, ma lancio le fireball. Sì, Fere. Vado. Prova. No, no, no. Spegni. Ci penso io, ci penso io, ci penso io. Spegni, Stef, aiuto. Ok. Cambi tutti. Adesso si inizia. Verrai messa alla prova con quest'arma. Contro uno, due, tre, quattro, cinque arcieri. Vai, Fere. Attaccali e scontrati contro di loro. Ma sto dando fuoco a tutto, Stef. Non è una... Sì, non è una buona idea. Stef. Dimmi. È finita l'arma. Ma schifo. Avete già? Sì, sono molto triste. Scusami, Fere. Non pensavo ad orarsi così poco. Lanci cinque fireball in tutto. Stef, spegnili, gente. Accidentiate. Aspetta. Chiamo i pompieri. Taglio. Ok, la bacchetta che spara le palle di fuoco è bandita. Basta, abbiamo buttato giù metà, abbiamo buttato giù metà arena, Stef. Sì, 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 è ufficialemente bandita. Tieni questa allora, Fere. Cos'è? Cos'è? Cliccata su... Mettila e cliccata a su destro. Mettila e cliccata a su destro. Ok. Vai. Non so neanche dove sei finita. Sono fuori, Stef. Aspetta. Fuori? Ho provato a tornare, ma è scaduta di nuovo. Sì, mi ha teletrasportato fuori. Cioè, fuori dall'arena? Fuori, ma molto lontana, Stef. Non pensavo fosse così forte. No, sono uscita fuori, ma fuori lontano. Pensavo fosse un po' più tranquilla. E poi io l'ho anche puntata verso di te, quindi non è che l'ho puntata verso l'alto. Eppure, oh, vabbè, è strana. Guarda, ma guarda quest'altra cosa che meraviglia. Io vado dove c'è della pietra, premo tasto destro e divento un minerale. Guarda. Oh, mio Dio. E può essere qualsiasi cosa, credo. Ma che senso ha? È stranissima. Che figo. Oh, fanno magie strane. Ci sono proprio interessi loro che noi ancora non abbiamo capito, te lo dico, Stef. Forse lì sto facendo arrabbiare ancora di più, perché sto mostrando cose ancora più segrete del nascondino. Certo, certo. Siamo arrivati all'ultima fase di questa prova, Fere. Quindi prendi quell'armatura e indossala, perché ne avrai decisamente bisogno. Allora. Allora, io nel mentre preparo tutti quelli che dovrei affrontare adesso. Sono uno, due, poi quest'ultimo sarà proprio l'ultimo in assoluto, e tre. Ok. Sei pronta, Fere? Sì. Tieni pronta alla spada. Vado? Vai, sono prontissima. Abbiamo lui. Ma, aspetta. È nel metto. Non mi era accorto. Ok, scusami. Ne abbiamo due, allora. Ok, perfetto. Lui! Ma che ha? Prova a picchiarlo. Che fa? Ti prende a sberle. Mi sembra eco. È forto, è strano. È tutto strano, però. Ok, è andato. È abbastanza debole. Lui secondo me è forte. Ok. Stai attenta. Vado? Vai. Lui secondo me è forte. Oddio, mi ha rotto l'arma. Mi ha rotto l'arma. No, Fere. Mi l'ha rubata. Esatto. Mi ha rubato l'arma. L'ho notato adesso. Adesso me la riprendo. Cioè, se ne mando un altro. Oh, mamma mia. Mi ruba l'arma. Ti rubano l'arma. Ma che figata. Infatti si chiamava spawn looter. E quindi dicevo looter in che senso. Adesso ho capito in che senso, Fere. È furbo. Ti ruba le armi. Molto, molto interessante. Molto forte oltretutto. Però siamo arrivati al punto finale e cruciale di questa sfida, Fere. Il peggiore c'è adesso, vero? Sì, dobbiamo evocare un titano. Come un titano, Stef? Dai. Hai presente il golem? Ok. Pensa il golem e il doppio. No, Stef. Dai. Non c'è bisogno. Abbiamo visto abbastanza per oggi, Stef. La 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 la. Dai, Stef. Ma come faccio? Guardalo. È arrabbiatissimo. Allora. È abbastanza forte, vero? Corro. Ok, vuole provare con l'arco e frecce. Vediamo se ce la fa. Che succede? Sei tipo arrabbiato? Oh mamma mia, sta correndo di più! Ce la posso fare. Ce la posso fare. Sono nata per questo momento. Sei tranquillizzato. Fere, devi affrontarlo con la spada. Vai, ci provo. Devi affrontarlo. Ti ho preso. Fere. Fere. Toglimi. Toglimi. Ti ho ripreso. Questa non era prevista, però. Avete pareggiato. Ce l'avevo fatta. L'importante è farcela. È l'importante è farcela. Cioè, l'hai visto? A un certo punto io ho visto tutto rosso, perché si vedeva tutto rosso dalla sua visuale. Ok. Mi faceva premi, control per dismount, per scendere. Quindi io premevo perché dicevo che accidenti succede. Sì, praticamente ti acchiappava il volo e ti iniziava a far darlo. No, lo voglio vedere. Riguardalo il video per vedere la scena. Aspetta, 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 aspetta. Guarda Fere, vedi? Ti devo dare il tuo premio. Te lo sei meritata. Alleluia. Non pensavo che saresti riuscita a sconfiggere tutti, dato che alla fine anche col titano hai fatto un pareggio. È una roba improponibile. Perché mi sottovaluti, Steph. Non so come hai fatto. E comunque, ecco il tuo premio. Questo qua è un blocco degli Enderman. E noi sappiamo tutti quanto ami il Viola, quindi tieni. Ma che cos'è? È un loro blocco. Piace? No, io volevo un'arma, una bella armatura. Steph, c'è ancora il Golem League che ci fissa? Guarda Fere, è carino, no? Questo è bello, questo è bello, è strano, sì. Però lo sapevo che tanto non te ne frega nulla delle cose Viola, non sei una vera ragazza, toh. Non sei una vera ragazza, mi è piaciuto. Guarda. Eccola, sì che sì, ragione. Cosa fa? Picchia. È una spada, Fere. Ah, no, pensavo facesse qualche fe... No, no, no. L'avevo capito, ma pensavo tipo prendesse fuoco, lanciasse... Ecco qua. Fulmini. Sempre a fare queste cose. Picchiamolo, picchiamolo. Cosa lasciano in pace? Bene. Oh, è forte, eh. Guarda, non riesce neanche a reagire, Steph, è fortissimo. Ma perché sei in game, è ovvio che non reagisce. Vabbè, non lo dovevi dire, Steph, scusa. Dovevamo far finta che l'arma che mi hai dato è fortissima e bellissima. Vabbè, me ne vado, basta. Perché se riesci a dire tutto, lasciateci un like. Per questo è il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti.